Con una perentoria doppietta sul campo dello Scoglitti, la Ragusa Biscari ha praticamente ipotecato la promozione. Ai ragazzi di Guerino serviva una vittoria per tenere lontane le velleità del Canicattini. Così è stato una gara condotta colpiglio della grande squadra e che ha saputo colpire quando era il momento. La formazione di Monachelli non ha potuto opporre altro che volontà e determinazione contro un avversario superiore, soprattutto nelle individualità. Un successo chiaro, netto e che ha confermato ancora una volta la forza di una squadra che è partita in sordina, che a Minfacenda ha fatto terra bruciata intorno fino al coronamento del lungo inseguimento al Canicattini, crollato come un cavallo azzoppato vicino alla linea del traguardo. Appareggiata invece 2-2 l'alta formazione di Akatema contro la nuova Camarinenza, la fortuna non ha certo aiutato la squadra di Mezzasalma, che meritava sicuramente qualcosa in più della semplice divisione dei punti. Adesso i pleatui sono dietro l'angolo, qualunque cosa possa succedere domenica prossima sul campo del New Team Ragusa.